Per molti l'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è una realtà poco conosciuta. In effetti la sua creazione si può datare subito dopo la conquista di Gerusalemme da parte delle prime milizie crociate, si parla dell'anno 1099-1100, quando i cavalieri non esitavano a dare la propria vita per la difesa e la custodia del Santo Sepolcro. Il primo documento che ne attesta l'esistenza risale al 1103 a firma di Balduino, re di Gerusalemme. Pio IX a metà ottocento ha ridefinito l'ordine del Santo Sepolcro, ha creato il Vescovo di Gerusalemme, ha ridato all'ordine un significato in difesa dei cristiani nella Terra Santa. Nel 1996 Giovanni Paolo II attribuisce la personalità giuridica di ente canonico dello Stato del Vaticano e definisce l'ordine come unica istituzione cavalleresca che non conferisce titoli per meriti acquisiti ma per aver prestato un servizio attivo e di carità. All'ordine appartengono cavalieri e dame, logicamente i cavalieri erano coloro che un tempo effettivamente con la spada e con la forza difendevano il Santo Sepolcro. Le dame oggi ricordano le piedonne, cioè le donne che seguivano Gesù e poi in genere aiutavano come sempre. L'ordine è suddiviso in luogotenenze che a loro volta sono suddivise in sezioni e quindi in delegazioni. Attualmente nel mondo si contano 54 luogotenenze per un totale di 23 mila appartenenti fra cavalieri e dame. A Cuneo in particolare si contano 30 cavalieri e 2 dame, ma stiamo crescendo, stiamo crescendo perché abbiamo nuovi candidati, alcuni stanno già ultimando il loro percorso formativo e altri l'hanno appena ultimato. Sui mantelli delle dame e dei cavalieri, come sulla bandiera che è il simbolo dei cavalieri dell'ordine, c'è una grande croce rossa con quattro piccole croci che la contornano e che sono il simbolo delle cinque piaghe di Gesù. Si entra a far parte dell'ordine per prestare un servizio attivo a favore dei cristiani in terra santa. Il percorso formativo dura 24 mesi, nel corso dei quali i candidati frequentano la delegazione, la sezione e la luogotenenza. A percorso ultimato ci sarà un colloquio con il preside e quindi con il luogotenente. Seguiranno la veglia d'armi e l'investitura alla presenza del Cardinale Granmaestro. Oggi le finalità dell'ordine sono un aiuto concreto e quindi sia finanziario che proprio aiuto pratico per chi può farlo della cristianità in Medio Oriente, sia con la costruzione e con la gestione di scuole, sia con l'aiuto negli ospedali e con la costruzione di ospedali. La cristianità, i cristiani nel Medio Oriente affrontano numerose e difficili questioni e noi cerchiamo di aiutarle.